Bella raga, come ho detto anche negli altri video precedenti, se sentite rumore, perché sopra di me stanno costruendo un cazzo di bunker Ok, adesso voglio provare a allenarmi un pochino e vedere se sto migliorando un po' No, oi, mamma mia quasi, qua potevo fare qualcosina ma non me la sentivo Comunque raga mi sta veramente prendendo tanto sto gioco, vediamo se si può fare doppio Sì, ce l'ho fatta, grandissimo, wow, ci sta raga, che figata però i colori così No Mannaggia me, ti pareva? Ok Vai, ok, e qua, boh Ok, dai che palle Eh, raga, mi sa che dovrò allenare ancora un bel po' Allora, qua niente Ok, il mio personaggio sta morendo di brutto Allora, qua potevo fare così, vai Ok, ne faccio un altro, allora Ok, non me l'ha preso, pazienza Qua forse un Oddio, che cazzo è successo Eh, qua non posso fare niente, sono troppo lento Dai Eh, qua meglio che... Aiuto, 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 aiuto Eh, vabbè Raga, non so, ho fatto 569 punti Ah, madonna raga, devo veramente Devo veramente allenarmi Ne voglio fare un'altra, ne voglio fare un po' più difficile Dai, proviamo, proviamo raga Vediamo cosa viene fuori Viene fuori qualcosa di curry, no? Oh, nope Vediamo Tanto, sì, come ripeto, se sentite tanto casino sopra Eh, stanno facendo i lavori, purtroppo Dalle 8 di mattina, che bello Che bello Saperlo sarebbe stato detto presto Ok, il sole sta sorgendo, grazie Allora, adesso l'ho fatta più difficile Vediamo cosa succede Vediamo che spettacolo di mappa viene fuori Ui Allora qua Vediamo qua Wow Bellissimo Clean anche Ok No Mamma mia Qua doppio Dai doppio, doppio, doppio Ah No Che palle Allora Ah, faccio solo un front flip, vai Facciamo così Facciamo così Oh ma Oh, che figata Mannaggia Eh, sono uscito da cosa Pazienza L'importante è che non sono caduto Bella farà sta mappa Qua è un altro front flip Potevo fare qualcos'altro ma avevo paura raga Beh, se ne becco un altro alto Provo a fare un'acrobazia Vediamo diversa Ok Uh Mannaggia Peccato che non c'è la retromarcia Tipo Che puoi tornare indietro O roba del genere Ok No, 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 no Pensavo fosse più alto Ah, è già finita così? Peccato Vabbè raga Raga, mi devo allenare tantissimo Perché se no Non ce la faccio Uh, bella Bella, ci stava